Alla ricerca di soluzioni nasce una task force per la vertenza acceglieria d'Italia guidata dalla Camera di Commercio di Brindisi e Taranto che avrà il compito di fare sintesi tra le posizioni di associazioni datoriali e sindacati e interloquire in modo unitario ed efficace con gli ambienti ministeriali e istituzionali e con l'azienda ora in amministrazione straordinaria con una priorità all'ottenimento dei crediti avanzati dalle imprese dell'indotto e dei lavoratori. E questo l'esito della riunione serale convocata dalla Presidente della Camera di Commercio Brindisi e Taranto Vincenzo Cesareo con associazioni datoriali e sigle sindacali. La task force chiederà di incontrare i commissari di acceglierie, il Presidente della Regione Emiliano, il Ministro Urso. Si è deciso di mettere in piedi una task force guidata dalla Camera di Commercio che assuma tutti i toni istituzionali senza per questo sostituirsi in alcun modo alle associazioni e ai portatori di interesse e ai sindacati che continueranno a fare le loro partite, e che continueranno a giocare le loro partite, le loro rivendicazioni nelle forme e nei modi che riterranno più opportune. Abbiamo deciso insieme di mettere insieme tutti gli attori intorno alla Camera di Commercio oltre che per delle economie di scala e per aumentare la massa critica anche perché la Camera di Commercio in quanto istituzione riteniamo che abbia maggiore facilità ad interloquire proprio con gli ambiti ministeriali, regionali e quant'altro. Per l'ILVA intanto ci sono cinque multinazionali interessate, lo ha detto il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolf Urso, durante un incontro con i lavoratori e i sindacati dell'ex ILVA di Genova.